In questa sessione vi parlerò di Redux Toolkit, un framework sviluppato dal team Redux che semplifica notevolmente l'integrazione di questo State Manager in applicazioni React. Mi presento velocemente, mi chiamo Fabio Biondi, sono Google Developer Expert in Web Technologies con specializzazione in Angular, Microsoft MVP, mi occupo di formazione e consulenza front-end principalmente per quanto riguarda Angular, React e le tecnologie che vi ruotano attorno e ho fondato diverse community e gruppi Facebook tra cui Angular, React e JavaScript Developer Italiani che contano ormai più di 20.000 membri. Per comprendere i contenuti di questa sessione è necessario avere delle discrete basi di JavaScript e una minima conoscenza di TypeScript, aver utilizzato React e conoscere i benefici che uno State Manager come Redux può portare alle vostre applicazioni. In caso contrario non preoccupatevi perché nelle prime slide cercherò di descrivere brevemente alcune delle sue caratteristiche. Vediamo quindi brevemente cos'è Redux. È uno State Manager per applicazioni JavaScript, ci permette quindi di gestire e tenere sotto controllo l'intero flusso di dati, azioni e side effect. È un pattern ormai consolidato e utilizzato moltissimo in ambito front-end tant'è che anche se in diversi varianti è usatissimo in React, Angular, Vue e Flutter. Redux ci permette di isolare le modifiche allo stato, le azioni, side effect come le chiamate HTTP e i cambi di root e di effettuare una sorta di query allo store chiamati selettori. Grazie a questo approccio possiamo tracciare tutto ciò che accade all'applicazione e sfruttare il time travel debug e i Redux DevTool per tornare ad esempio indietro nel tempo, effettuare operazioni di undo e di redo, esportare e importare facilmente lo stato di un'applicazione e molto altro. In sostanza il concetto fondamentale da comprendere è quello di separare la user interface da tutto ciò che riguarda l'architettura. Per fare in modo che la nostra applicazione Scali sia testabile e mantenibile nel tempo, una delle metodologie più utilizzate è quella di organizzare la UI in componenti quasi totalmente stateless. Quindi abbiamo spesso una serie di componenti, indipendentemente che si utilizzi Angular o React, che non fanno praticamente nulla se non visualizzare dati e notificare allo state manager che qualcosa è avvenuto. Tutto ciò che riguarda la gestione di dati e di side effects saranno appunto gestiti e isolati da Redux. Sostanzialmente i componenti presentational, così chiamati questi stateless, notificano al componente che si trova più in alto nella gerarchia che qualcosa è accaduto tramite delle callback in React. In Angular sarebbero per esempio degli eventi. Ogni evento che sia generato dall'utente o dal sistema all'interno dell'applicazione sarà quindi notificato ad un componente che chiameremo container o anche smart component che si prende in carico il compito di comunicare con lo state manager effettuando il dispatch di un'azione. Quest'ultimo si occuperà di gestire le operazioni conseguenti ad un'azione, quindi ad esempio una chiamata REST, un cambio di root come dicevamo prima e aggiornare lo stato di conseguenza che sarà poi utilizzato dalla user interface grazie all'utilizzo di speciali query detti appunto selettori. Tale selezione dello stato sarà poi passato ai componenti presentational tramite il passaggio di props di proprietà. I Redux DevTools sono gli strumenti che io reputo più utili che Redux e che Redux si metta a disposizione nel momento in cui lo andremo a implementare in una nostra applicazione. Grazie a questa estensione per i vari browser disponibile per Chrome, Firefox e così via abbiamo la possibilità di avere sempre a disposizione una scheda Action tramite la quale possiamo tracciare tutta la storia delle azioni, a sinistra come vedete, e verificare sulla destra quali informazioni abbiamo passato ad ogni azione. Per esempio in Ad Product abbiamo un payload con appunto un oggetto che contiene il name e viene appunto definito payload. Possiamo quindi tracciare ogni azione, cliccare su una di queste azioni per selezionarla e tramite il tab State possiamo verificare come quell'azione abbia impattato sullo stato applicativo. Questo stato applicativo prende il nome di Store che non è nient'altro che un enorme oggetto che contiene tutti i nostri dati e che potranno essere recuperati come dicevamo prima attraverso dei selettori. Abbiamo anche un comodissimo tab Diff che ci permette di verificare velocemente come un'azione abbia impiattato sullo Store ma evidenziando solo le parti dello stato che sono state modificate. Quindi in sostanza oltre ad avere sempre chiara la situazione dello stato in ogni fase del ciclo di vita di un'applicazione possiamo usare il Redux Dev Tool anche per moltissime altre operazioni, molto utili in fase di debug. Per esempio possiamo esportare uno snapshot dello stato in un determinato momento, salvarlo ad esempio in un file locale .json, su un database o sul sistema di bug tracking e successivamente idratarlo, quindi importarlo nuovamente nel nostro progetto per simulare ad esempio lo scenario che ha generato un bug o un problema ad uno dei nostri utenti. Ma vediamo ora un tipico scenario di una single page application in cui si effettua un'operazione asincrona. Immaginiamo che un utente abbia compilato un form presente in un componente della nostra applicazione, quelli che vediamo qui definiti come presentational. La parte stateless, questa presentational, notifica il componente che si collega allo state manager che come abbiamo detto viene chiamato container che qualcosa è accaduto, ad esempio l'inserimento di un nuovo utente. Il container quindi emette un'azione, ad esempio add user che sarà tra l'altro tracciata nei dev tool che abbiamo visto prima e a questo punto un middleware intercetta questa azione, effettua le operazioni necessarie come per esempio una chiamata rest, salvataggio su local storage, routing e così via ed emette a sua volta un'azione per esempio add user success nel momento in cui effettivamente questo side effect è stato terminato con successo. potrebbe chiaramente mettere anche un'azione di fallimento. Il reducer a questo punto è il costrutto che ha il compito di intercettare le azioni e aggiornare lo stato di conseguenza. Ad un certo punto qualunque componente abbia bisogno di recuperare porzioni da questo stato non farà altro che utilizzare uno dei selettori che andremo a creare che come già detto sono una sorta di query allo store acquisirà i dati e li passerà infine ai vari container che li distribuiranno poi tramite proprietà ai vari componenti che ne hanno bisogno. Nei forum, gruppi di discussione o in diversi articoli si sente spesso dire che Redux è abbastanza complesso da utilizzare e overkill e infatti il grafico precedente obiettivamente non era il massimo della semplicità. quindi spesso viene detto che per gestire uno stato globale in un'applicazione in particolar modo React sia sufficiente usare per esempio l'API context che è fornita appunto dalla libreria o banalmente gestire lo stato applicativo in un componente parent o distribuirlo ai figli e distribuirlo ai figli di conseguenza. Quindi uno stato locale è un componente principale che poi andrà appunto a passarlo via props alle varie componenti stateless. Beh, in effetti queste due soluzioni sono ottimali. non avremo a disposizione però il Redux Dev Tool, non avremo appunto a disposizione l'isolamento del codice che andremo a vedere poi anche nelle successive slide. Quindi in realtà sostanzialmente è vero che è abbastanza complesso finora e poi vedremo perché non è più così, ma è anche vero che non sono dei sostituti alternativi a Redux, sono delle possibilità che abbiamo per gestire lo stato ma non vanno a coprire completamente tutte le esigenze che appunto potrebbe avere un'applicazione di gestione dello stato che invece possiamo avere con Redux. Quindi dicendo, quindi avendo fatto questa premessa, dicendo che hanno ragione queste persone dire che è complesso, finora Redux necessitava di diverse dipendenze infatti per funzionare. Ad esempio una dipendenza per connettere i Dev Tool, una per gestire i middleware, quindi come Tanks, Agass, Observable e così via. Servivano delle librerie per ottimizzare le selezioni come Reselect, solo per citarne alcune, doveva essere configurato. Le azioni e Redux richiedono spesso comunque un lavoro di boilerplate o comunque di creazione di file abbastanza lungo e spesso noioso. Lo Store funziona solo se viene applicata correttamente l'immutabilità che spesso in JS comporta un codice un po' più verboso, difficile da leggere e in cui è più facile commettere degli errori, se non usando apposite trick, apposite tecniche, verifiche del codice tramite unit test o l'utilizzo di apposite librerie per l'immutabilità. E bisogna scrivere i container, quei componenti che fungono da ponte tra Redux e la UI. Per chi ha già usato Redux sa bene di cosa parlo. Magari voi li amate, io no. Ma lo vedremo nella prossima slide e vedremo come tutto questo potrà essere semplificato tramite le nuove versioni di Redux disponibili, le più recenti e Redux Toolkit. Questo però, tornando alla versione attuale di Redux, è un esempio di container. Questo componente in realtà non contiene una UI ma grazie alla sintassi che vediamo in questo slide ci permetterà di effettuare diverse operazioni. Ad esempio, possiamo estrarre delle selezioni dallo stato, dallo store, come in Map State to Props. È possibile quindi estrapolare una porzione di store e naturalmente anche creare selettori più complessi rispetto a questo che prendono semplicemente la proprietà catalog dallo store, l'oggetto catalog, e metterle in relazione per esempio tra loro, filtrarle e così via. Possiamo poi creare le azioni che potranno essere invocate dai componenti stateless, dei componenti presentational, in questo caso add product e delete product. Quindi prendiamo queste props, prendiamo questa parte di stato, prendiamo queste azioni e andiamo a passarle a una funzione connect. Quindi possiamo creare una relazione tra questo connettore, quindi Redux e un componente e il componente riceverà queste proprietà, questo stato e queste selezioni appunto sotto forma di props e potrà quindi usarle al suo interno. Tenete conto che questo è un esempio semplice, le cose si complicano e quindi anche questo file aumenta di dimensioni e di complessità. Ci sono anche dei trick per fare in modo che Maps di spazio to props sia più conciso rispetto a quello, ma il succo è questo. Ma tutto questo, come anticipato, è cambiato da Redux 7, in particolar modo 7.1, grazie all'introduzione degli hook in React 16.8 che è avvenuto ormai nell'autunno scorso del 2019. Redux 7 ci fornisce dei nuovi hook, Use Selector e Use Dispatch, tramite i quali avremo la possibilità di semplificare notevolmente il precedente step, ovvero la creazione di container. Gli hook sono delle semplici funzioni che forniscono a React funzionalità come stato o life cycle, solo per citarne alcune, senza una necessità di scrivere classi o usare eigenholder components e così via. Tramite questi hook possiamo facilmente effettuare operazioni e selezioni del nostro stato, che saranno tra l'altro memoizzate ed effettuare facilmente il dispatch di ogni azione. Vediamo infatti che Use Selector è usato semplicemente per estrapolare la porzione di stato catalog e usarla poi nel template JSX e tramite invece Use Dispatch possiamo direttamente invocare un'azione che presto vedremo appunto come è, come andare a scrivere. Veramente semplice. Possiamo anche simulare un container, il nostro vecchio container, creando un componente che funga semplicemente da connettore tra Redux e la parte UI stateless tramite l'utilizzo di questi hook. Ad esempio la nostra UI potrà quindi rimanere stateless e i componenti potranno ricevere stato e azioni sotto forma di props. E adesso entra in gioco Redux Toolkit, un recente framework creato proprio dal team ufficiale Redux per semplificare nettamente il suo utilizzo. Proprio il fatto che sia uno strumento ufficiale fa sì che io lo abbia preso subito in considerazione e che anche molti altri sviluppatori lo stiano adottando. Vediamo quali sono le caratteristiche principali di Toolkit. Semplifica notevolmente l'operazione di setup di Redux. Fornisce convenzioni, linee guida e buone pratiche per il suo utilizzo. Include già dei middleware, la sincronizzazione con i DevTool e anche Immer.js che a breve vedremo cos'è, senza la necessità di ulteriori download o configurazioni ad hoc come accadeva in precedenza. Consente quindi di focalizzarci sulle funzionalità effettive dell'applicazione senza perdite di tempo scrivendo meno codice grazie anche alle altre numerose funzionalità che vedremo a breve. Quindi, come integriamo Redux nel nostro progetto? Creiamo un progetto React, in questo caso con il supporto per TypeScript, una mia scelta ma non è obbligatorio. Installiamo Redux e visto che utilizzo TypeScript andiamo a definire anche a installare le relative definizioni dei types di React Redux e installiamo Redux Toolkit con la sua dipendenza. Questo è quello di cui avremo bisogno. Analizziamo innanzitutto il processo di configurazione dello store. Tutto è molto semplice, chiaramente se avete già un'idea di come funzioni Redux, però sostanzialmente definiamo la struttura del nostro store tramite Combine Reducer. Il nostro store sarà quindi suddiviso in tante piccole parti, ognuna gestita da un suo Reduxer. Quindi passiamo questo Reduxer al metodo ConfigureStore. Poi, dato che in questo esempio utilizzo TypeScript, altrimenti basterebbe quello che abbiamo visto finora, crea un CustomType RootState che rappresenta la struttura del nostro store, semplicemente acquisendo il RetroType del RootReducer. Ripeto, quest'ultimo step non è necessario se non usate TypeScript, quindi la parte sopra, come vedete, è molto semplice. Cosa sono i Reducers? Se non sapete cosa sono, andremo a vederlo a breve. Andiamo quindi a wrappare l'intera applicazione con il componente Provider, al quale passiamo la reference del nostro store che abbiamo appena creato e configurato nella slide precedente. Quindi, adesso abbiamo a disposizione appunto Redux all'interno della nostra app, grazie al wrapper Provider, e vediamo come emettere un'azione. Un'azione sostanzialmente notifica che qualcosa è accaduto, indipendentemente che sia avvenuto a causa di un'azione dell'utente, o di sistema da una socket o qual'altro. Redux Toolkit ci offre ora un comodissimo strumento chiamato Create Action, tramite il quale possiamo facilmente creare le nostre azioni, tipizzare il payload, quindi i dati inviati insieme a quest'azione, e assegnare un action type, ovvero un nome che identificherà la nostra azione. Per emettere una di queste azioni, la nostra UI dovrà semplicemente importare e invocare una di queste funzioni. I Reducer I Reducer prendono in consegna le azioni emesse e modificano lo stato di conseguenza. In precedenza, un Reducer era spesso rappresentato da una funzione che riceveva due parametri, lo stato corrente e l'azione. Con uno Switch Case si poteva semplicemente verificare quale fosse il tipo di azione e modificare lo stato di conseguenza. Ora, con Create Reducer, possiamo facilmente inizializzare la porzione di store a cui facciamo riferimento, che quindi gestisce questo Reducer, analizzare l'azione e modificare lo stato di conseguenza. Il codice diventa più conciso rispetto al precedente, ma il vero vantaggio di usare questo approccio lo vedremo nelle prossime slide. In questo snippet, tra l'altro, vi evidenzo che utilizzo sia lo Spread Operator, nel caso di Add Product, e con i tre punti, che la funzione Filter per restituire, in entrambi i casi, una nuova locazione di memoria dello stato, che rappresenterà la sua variazione, applicando quindi il concetto di immutabilità. Perché? Perché Redux, affinché possa funzionare in modo performante, verifica semplicemente che il nuovo stato sia differente dal precedente tramite la verifica proprio di questa locazione di memoria, quindi con un semplice uguale, uguale, uguale. Quando l'allocazione cambia, significa che lo stato è stato aggiornato e che praticamente Redux può eseguire tutte le operazioni necessarie per notificare alla UI che qualcosa è cambiato, renderizzando ad esempio nuovamente i componenti con il nuovo stato. Tuttavia, anche se questo codice risulta comunque conciso e abbastanza leggibile, ci sono situazioni in cui le cose potrebbero complicarsi, soprattutto a causa della limitabilità di cui parlavo prima. Immaginiamo ad esempio di voler disabilitare un prodotto di un array, ma ipotizziamo che tale proprietà, che deve essere impostata a false, sia un nodo interno, un nodo interno di ogni prodotto, ad esempio product.status.disable. Dato che spread, map e filter, in generale in java kit i metodi sono shallow, quindi creano delle nuove allocazioni di memoria solo per i nodi principali, quelli root di un oggetto, ma non per i nodi interni, per gli oggetti interni, dobbiamo quindi non solo clonare l'intero oggetto con lo spread operator, vedete punto 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 product, ma dobbiamo anche usare lo spread o l'objet assign, quello che preferite, anche nei relativi nodi interni, altrimenti rimarrebbero delle reference a quei nodi, anche se abbiamo comunque clonato l'intero oggetto. Non è il massimo, me ne rendo conto, quindi questo spesso infatti rende il codice molto confuso, difficile da debuggare e anche molto facile commettere degli errori. Esistono soluzioni alternative, o dei trucchetti in realtà, per risolvere il problema con un codice abbastanza conciso, ad esempio json stringify insieme a json parse ci permette di convertire un oggetto prima in stringa e poi nuovamente in oggetto, eliminando quindi qualunque reference con lo stato precedente. Oppure librerie come lodash, che forniscono funzioni ad hoc, come clonedip, o librerie come immutable.js e diverse altre. Possiamo inoltre inserire negli unit test un controllo per verificare che abbiamo rispettato l'immutabilità, quindi si avvisa con un fallimento di un test se qualcosa non avviene, per esempio con object freeze. Ma per semplificare tutto quello che abbiamo visto in questa slide, nella slide precedente, create reducer utilizza ora, grazie a redax toolkit, immer.js, che è molto utile per permettere ai reducer di mutare gli oggetti direttamente senza preoccuparci proprio dell'immutabilità. Dietro le quinte, redax toolkit utilizza una sorta di stato proxy che riceve le variazioni allo stato, che facciamo con un push, per esempio uno splice, e le converte, grazie a immer.js, nell'equivalente copie deep in profondità, quindi come fatto in precedenza usando lo spread, json string file, odash e così via. Come vediamo infatti in questo snippet, ora possiamo tranquillamente effettuare un push quando vogliamo inserire un elemento in un array, oppure possiamo modificare direttamente la proprietà disabled senza preoccuparci di cronare oggetti, ma semplicemente usando l'indice del nostro elemento dell'array .status.disable. Ma redax toolkit ci offre un'ulteriore semplificazione alla creazione di azioni e dei reducer, tramite ad esempio create slice. Tramite questo strumento abbiamo la possibilità di assegnare un nome a questa porzione di store e assegna anche un space alle azioni che sarà quindi incluso come prefisso di ogni azione. Quindi sappiamo che queste azioni fanno riferimento a products. Possiamo inizializzare questa porzione di store esattamente come reducer, la parte interessante è che possiamo creare gli action creator e il reducer contemporaneamente. Quindi ad product e ad products saranno già i nomi delle nostre azioni, che tra l'altro esportiamo per comodità alla fine del file, proprio per poterle importare facilmente dovunque ci servano. E in lo stesso modo gestiamo l'aggiornamento dello stato, anche in questo caso sfruttando immer, quindi abbiamo un push nell'add product e uno splice nel delete. Stracomodo e straconciso. L'unica differenza con i reducer tradizionali lo troviamo nell'assegnazione. Invece di portare il reducer abbiamo semplicemente la reference a questa porzione di slice che chiameremo productstore.reducer, come avevamo il punto actions per recuperare le azioni sempre da questo slice. Ma per il resto funzionano allo stesso modo. Ma come gestiamo i side effects? Finora tutte le operazioni che abbiamo visto sono state sincrone. Ad un'azione corrispondeva una modifica diretta allo store. Nella realtà, tuttavia, abbiamo spesso la necessità di modificare lo store solo dopo il successo di un'operazione server, ad esempio una chiamata REST. Queste operazioni sono spesso delegate ai middleware. In React, in realtà in Redux, tra i più noti non possiamo che citare SAGAS oppure Redux Observable che fa largo uso di RGIS e quindi del concetto di observable, o il semplicissimo TANK. E proprio quest'ultimo è già disponibile e configurato automaticamente quando installiamo Redux Toolkit. Innanzitutto questo step è necessario solo se utilizziamo TypeScript, quindi non avremo bisogno di questo, risulta molto più semplice, ma quindi semplicemente io mi creo un type per andare ad tipizzare il nostro TANK, quindi la nostra azione asincrona. Quindi utilizziamo TANK ACTION che sarà il nostro nuovo type che accetta quattro parametri. Il primo rappresenta il valore che restituirà praticamente al nostro TANK, di solito nulla. Il secondo parametro è semplicemente una reference al nostro ROOT REDUCER, al nostro STORE, passiamo eventuali argomenti extra e il quarto parametro invece è il tipo di azione che dovrà gestire questo TANK, azioni di tipo STRING. Ripeto, in realtà questo non vi servirà se non usate TypeScript e comunque anche se lo utilizzate, più o meno non andremo molto lontani da questi sintassi. Quindi creiamo un'azione, ad esempio ADD PRODUCT, perché riceve un PAYLOAD, in questo caso un prodotto senza l'ID, dato che stiamo inserendo, stiamo simulando l'inserimento di un nuovo prodotto e l'ID solitamente è ottenuto solo dopo, dopo la chiamata REST, non ce l'ho quando inserisco qualcosa. Utilizzo tra l'altro OMIT, che è un'utilità di typescript 3.5, se non ricordo male, che ci permette di definire un prodotto, in questo caso, in cui andiamo ad omettere la proprietà ID. Quindi non possiamo utilizzarla nel momento in cui dovessimo fare riferimento a PRODUCT. Quindi molto comodo per capire esattamente quello che stiamo passando ad una funzione, per esempio. Poi effettuiamo la chiamata server, recuperiamo quindi con una WAIT POST, POST dietro le quinte potrebbe usare Axios o Fetch, indifferente, recuperiamo il prodotto con il nuovo ID assegnato dal database ed effettuiamo il dispatch di una nuova azione di successo passando appunto il nuovo prodotto, che è comprensivo dell'ID, e lo passiamo come payload dell'azione ADD PRODUCT SUCCESS, o in caso di fallimento avremo un'azione di fail. Tutto qua. Quindi la nostra UI adesso invece di andare a invocare un'azione ADD PRODUCT, che era creata con CREATE ACTION, andremo semplicemente ad utilizzare ADD PRODUCT, passandogli il prodotto, e poi il middleware ci occuperà di andare a dispacciare eventualmente ADD PRODUCT SUCCESS e PRODUCT FAIL, che potranno essere utilizzate sempre, create, come abbiamo visto in precedenza, con CREATE ACTION, quindi con una sola riga definendo appunto il payload e il type. Dovremmo quindi fare un'ultima modifica per integrarla nella nostra applicazione che abbiamo creato fino adesso, quindi il nostro reducer, oppure la nostra slide, non aggiornerà più lo stato all'ADD PRODUCT, o all'ADD PRODUCT, ma solo all'ADD PRODUCT SUCCESS, quindi quando saremo sicuri di aver ricevuto il risultato dal server, come vedete sulla destra, con un payload che è il prodotto completo di comprensivo di ID. Poi facciamo un PUSH o nel caso di fallimento possiamo gestire l'azione e fare qualcos'altro. Questo è tutto. Anche se può sembrare complicato, in realtà abbiamo configurato lo STORY in pochissime righe grazie al Configure Store. Create azioni e reducer tramite CREATE SLICE. Qualora non vi piacesse questo approccio, in alternativa potete usare CREATE REDUCER e CREATE ACTION. E abbiamo a disposizione TANK come middleware, ovviamente è possibile integrare dei middleware esterni, quindi possiamo tranquillamente usare SAGAS se vogliamo, IMMER per la gestione della immutabilità e la sincronizzazione con i DevTools, tutto quanto chiave in mano. Redux 7, a sua volta, ci offre dei comodissimi hook come Use Selector e Use Dispatch per evitare la creazione degli antipatici scomodi container, che comunque potrete continuare ad utilizzarli se preferite a questo approccio. Quindi nessun problema, è tutto retrocompatibile e integrabile con Redux standard. Quindi potete sfruttare o meno le caratteristiche del toolkit o di questi hooks, come volete, o anche mixarle. Quindi adesso, tuttavia, usando questi strumenti, mettere in piedi un'applicazione con il supporto Redux richiede pochissimi minuti. Quindi non avete più scuse perché la procedura è davvero semplice. E la comodità, secondo me, e la solidità che possiamo avere nelle nostre applicazioni utilizzando uno State Manager, secondo me, è impagabile. Ma anche in applicazioni piccole, non dico semplicissime, ma anche in applicazioni comunque non Enterprise, comunque porta veramente un grande giovamento nella manutenibilità e testabilità della nostra app. Bene, ho concluso. Per ulteriori video e tutorial su Angular, React o JavaScript, e in realtà per, diciamo, tecnologie front-end, ma non solo ultimamente, in generale, potete consultare il mio sito dove trovate i link ai miei profili social. E in particolar modo vi consiglio di seguirmi su YouTube, dove pubblico tutto il materiale, specialmente video, o su Facebook, qualora dovessi anche condividere altre informazioni, articoli, snippet, consigli e così via. Ma soprattutto, per qualunque dubbio tecnico, potete sfruttare i gruppi Facebook, Angular, React e JavaScript, e opportunità per developer italiani, dove ormai siamo più di 20.000. Trovate moltissimi sviluppatori super preparati e sempre disponibili a darvi supporto. Vi ringrazio per aver seguito questa sessione e ci vediamo al prossimo talk. Ciao! 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 Ciao!